Farmacie comunali a Battipaglia. La sindaca Cecilia Francese ha confermato che le gestirà ancora la COFA SER fino al 31 dicembre 2023, ma a breve il Consiglio Comunale dovrà decidere quale soluzione adottare per la gestione. Al momento rassicura la sindaca Cecilia Francese e resteranno pubbliche, ma si dovrà scegliere se darle in concessione a privati o costituire una società mista. La decisione quindi è rimessa a una prossima assise che dovrà tenersi non appena la vicenda sarà avvagliata dalla Quarta Commissione Consigliare Tributi e Bilancio. Nel 1998 Battipaglia di la COFA SER tranne poi uscirne nel 2010. Da allora ricorsi al TAR e poi al Tribunale Civile fino al 2020 quando si trovò una soluzione per il Comune che affidò la gestione delle tre farmacie al Consorzio Intercomunale fino al 1 settembre 2021 in cambio di un canone di 12.000 euro l'anno per ciascuna farmacia. Il Comune ottenne la COFA SER oltre 69.000 euro a titolo di liquidazione 240.000 per la gestione delle tre farmacie dal 2012 al 2019. Insomma adesso si deve trovare la quadra e verificare come poter meglio gestire le farmacie comunali. Al vaglio appunto varie ipotesi ma la pubblica assise deciderà. Qualunque soluzione sarà adottata prioritario per Battipaglia sarà garantire che le tre farmacie restino in vita, rispettino la finalità sociale che ne decise la Costituzione e che venga rispettata la clausola sociale per il personale. Priorità a queste che sono state chiarite dalla prima cittadina Cecilia Francese.